Il consigliere Massimo Lacetera lascia il gruppo La Puglia in Più ed entra nel movimento politico Puglia Popolare, che fa capo all'assessore Mariana Legista e che aderisce all'appena nata Rete Civica, federazione di movimenti politici civici locali e singole personalità della società civile. Ad annunciarlo è stato lo stesso consigliere nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, tenutasi online. Mi trovo ad effettuare una scelta. Sono costretto, mio malgrado, ad uscire dal gruppo della Puglia in Più e a costituire un nuovo gruppo politico, ossia il gruppo di Puglia Popolare. Naturalmente tengo a sottolineare che questo gruppo continuerà a sostenere l'amministrazione a Baticchio, ma che comunque non si sente rappresentato dall'assessore Domenico Nacci. L'acetera non ha risparmiato critiche a colui che era il suo assessore di riferimento Domenico Nacci. L'assessore che ha espresso questo movimento, sia il dottor Domenico Nacci, nel corso del suo mandato ha sempre più preso decisioni, a mio parere, non condivise e né tantomeno condivisibili. Agli accuse rivolte ha risposto direttamente all'assessore Nacci, replicando anche alle critiche mosse all'ex responsabile del movimento Nino Colasanto, per essere approdato nel Partito Democratico ricoprendo la carica di tesoriere. Le stesse osservazioni che lui ha mosso a me posso muovere io a lui, ma non credo siano di interesse della Sise. Io non so che cosa viene fatto in Commissione Controllo e Garanzia, non so che cosa venga fatto o se è stato fatto in passato nella tua Commissione. Sicuramente diceva bene, avevamo una decca che io finanziavo e sostenevo e spesso alle riunioni gli assenti erano più di uno, compreso il Consiglio della Cetera. Il responsabile regionale, nonché fondatore della lista da Puglia in più, del movimento regionale da Puglia in più, è un senatore iscritto ed eletto nella lista del Partito Democratico. Quindi la vicinanza di un dirigente provinciale alla tesoreria di un movimento cittadino legato al PD credo sia del tutto legittima.